Buongiorno, io sono Dario Cusumano, direttore generale della Giuliani Division of Bucci Industries Group. La Giuliani è stata fondata nel 1957 e fa parte del gruppo Bucci Industries dal 99. Siamo più di 1000 dipendenti suddivisi in 13 siti, 4 in Italia e 9 filiali estere. Il nostro core business è la progettazione e la produzione di macchine automatiche, macchine utensili e robotiche. Oggi la Giuliani produce e realizza macchine utensili di alta precisione e altissima produttività per svariati mercati manifatturieri nel mondo. La Giuliani produce macchine utensili a transfer, sia a tavola rotante che in linea. I nostri valori aggiunti sono la capacità di saper gestire progetti ad altissimo contenuto tecnologico. Sono la competitività dei nostri impianti unita alla loro qualità. Sono un service worldwide di supporto costante al cliente. Sono la nostra esperienza in ogni settore che occupiamo. Da più di 20 anni collaboriamo con Fanuc. La stretta collaborazione con Fanuc ci ha permesso di mettere sul mercato tecnologia sempre all'avanguardia. Consideriamo Fanuc un partner prezioso, che si distingue per tecnologia, supporto worldwide ed esperienze. Sono Malavolti Simone, lavoro in Giuliani dal 2016 e sono Sales Area Manager. Mi occupo da diversi anni di vendite a livello internazionale dei nostri transfer. La collaborazione con Fanuc ha origine agli inizi degli anni 2000. Infatti, ad oggi, tutte le macchine in linea Giuliani sono equipaggiate con CNC Fanuc della serie 31EB. La scelta del CNC Fanuc della serie 31EB è focalizzata alla gestione di multiasse, quindi al controllo fino a 72 assi all'interno delle nostre macchine. Qui ci troviamo all'interno dell'area Giuliani adibita all'installazione dei transfer lineari. Attualmente abbiamo in installazione 5 impianti completi, 100% equipaggiati Fanuc. Abbiamo 127 assi controllati Fanuc, 49 azionamenti e 8 CNC Fanuc della serie 31EB. Questa macchina è adibita alla produzione di chiave per il mercato seraturiero di alta gamma, dal grezzo al prodotto finito, pronto per essere spedito. Si compone da 18 stazioni in grado di lavorare simultaneamente. Uno dei punti di forza del transfer lineare è il cambio prodotto e attrezzatura in assenza dell'operatore. Tutto ciò è reso possibile da una multa alimentazione del prodotto grezzo, da un cambio attrezzatura robotizzato, un cambio attrezzatura automatico. Infatti, le nostre morse si adattano in automatico al profilo del prodotto grazie al sistema CNC. Il sistema riceve gli ordini direttamente dal network dell'azienda cliente e lo traduce in un programma di lavorazione dedicato ad ogni singolo codice in lavoro, tracciato lungo tutto il suo percorso. Grazie alla tecnologia Giuliani e dei sistemi integrati Fanuc, possiamo offrire ai nostri clienti un prodotto di alta qualità. Le nostre macchine sono in grado di lavorare H24 sette giorni su sette, anche non presidiate dall'operatore. Grazie alla sinergia Giuliani-Fanuc, è stato possibile realizzare questi nuovi progetti in tempi estremamente competitivi e nel rispetto degli standard e delle qualità richieste dai nostri clienti. Le nostre macchine transfer vengono vendute in tutto il mondo, in Italia, in Europa, Stati Uniti, Brasile, Turchia, fino in Oriente. Solo Fanuc ha saputo coniugare esperienza, tecnologia, supporto internazionale e grande affidabilità. Grazie a tutti i nostri clienti.